Ciao a tutti amici di YouTube, sono Fabio ed in questo video, visto che nel precedente ho portato i temi di terze parti, vediamo come applicare un secondo tema scuro stile contrasto elevato. Premetto che questa guida è maggiormente utile per chi non possiede gli ultimi grandi aggiornamenti del sistema operativo Windows 10, ovvero October 2018 Update e May 2019 Update, visto che precedenti versioni non adottavano completamente la modalità scura. Detto questo, andiamo ad applicare questo tipo di tema scuro. Allora, c'è da applicare, da costruire uno script. Questo script poi lo salviamo successivamente con estensione .tem e poi lo salviamo nella cartella dove ci sono tutti i temi installati di Windows. Allora, potrete utilizzare Notepad++ oppure, in questo caso, come faccio io, Visa Studio Code. Creiamo un nuovo file ed ecco qui che abbiamo copiato il nostro codice. Allora, il codice magari ve lo lascio in descrizione e al limite se non è ben leggibile ve lo lascio su un cloud. Andiamo ora a salvarlo. Mi raccomando, scegliete qua nessuna estensione, così la possiamo personalizzare. Allora, salviamolo ora per comodità sul desktop. Possiamo anche chiudere il programma. Per semplicità, rinonimiamolo a proprio piacimento. In questo caso, scegliamo tema scuro, tile, contrasto elevato. E ora possiamo aprire la cartella dove sono salvati tutti i temi di Windows. Allora, tasto Win più R per aprire la finestra Segui e poi collate il codice, scusate, il percorso che vi lascio in descrizione. Eccolo qui. Allora, questo è un tema, come potete vedere, che ho salvato, non è un tema preinstallato del sistema operativo. Trasciniamo il nostro tema creato in questa cartella e poi possiamo andarlo ad applicare. Aspettiamo qualche secondo. Ed ecco qui. In automatico poi ci viene aperta l'app impostazioni di Windows 10, in maniera da farci visualizzare tutti i temi installati. Ovviamente possiamo ritornare anche indietro se vogliamo ripristinare il tema originario. Possiamo farlo attraverso la scelta di questi temi, oppure appunto scegliere un tema che noi abbiamo salvato. Come potete vedere è stile contrasto elevato. Ovviamente c'è qualche imperfezione, come potete vedere qui. Qualche cosa magari si può leggere di meno, ma comunque diciamo che per una cosa abbastanza casalinga può risultare utile. E niente, per questo è tutto. Allora, io vi faccio vedere un mio vecchio video che ho pubblicato circa un anno fa, dove l'ho fatto visualizzare anche nel precedente video a questo. Dove applico un tema scuro per Windows 10, per una versione che era prima di October 2018, quindi ancora non era completa la modalità scura. E quindi poteva essere utile questo tema scuro. Questo tema scuro è stato estrellato tramite un tema di terze parti. Non abbiamo fatto una modifica di questo genere che ho fatto vedere in questo video. Comunque, ve lo lascio sempre in descrizione, magari può tornare utile, magari lo preferite rispetto a questo che abbiamo appena creato. Fatemi sapere se questo tema, stile contrasto elevato, vi piace. Fatemi sapere se ha migliorato alcuni vostri aspetti grafici che desideravate nel sistema operativo. Lasciate un mi piace per il supporto, condividete il video e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Grazie a tutti.